Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft oggi siamo qui con il nostro amico Drake che si trasforma fa delle mutazioni e adesso noi possiamo andare a vedere quella cosa che tu volevi farci vedere sono andato un po' a fondo e non c'era niente in assoluto però c'era solo lava, quindi non vi preoccupate ho preso un po' di ferro si così si forma l'ossidiana no invece prendiamo l'ossidiana per farci cioè così facciamo ah è vero allora qua c'è altro aiuto però non mi trascinare comunque c'è una pasta c'è una pasta cosa di diamante o smeraldo quello che è? no lo voglio prendere io stai la dai fammi una via dai fammi una via dai vai ragazzi ok adesso i diamanti ne abbiamo due due ok aurora che cos'è tutto sto disordine? rimetti subito a posto mamma muoviti stai facendo un video stai facendo un video scusami vabbè va va vabbè la mia mamma è più qua scusa un bacino vabbè allora appena appena che lo metti metti subito l'iche eh mamma si dice l'iche è uguale? eh l'iche mi raccomando mettete tutti l'iche dopo li metti a posto eh si ma proprio proprio no proprio vergogna la mano è un po' scontato però dai che quanto eh lasciamo perdere questo disco meglio non ne parlare ma lo sai che l'Ossidiana tutti i picconi ci mettono circa 9 secondi a distruggerla mentre quelli di di diamanti ce ne mettono 4 lo hai fatto l'hai preso l'hai fatto il piccone dove sei? oh l'hai fatto il piccone eh non te la troppa eh lo sai perchè allora tutti i picconi a parte quelli di diamanti in realtà posso ci mettono a raccontare l'Ossidiana eh tutti i picconi ci mettono di preciso 290 secondi quindi conta che 60 secondi sono un minuto qualche 5 minuti passare ci devi passare 5 minuti a fare così poi se c'è un altro ovviamente vabbè vabbè possiamo stare senti andiamo così vai a prendere vai a prendere i diamanti e lo facciamo ripetare ні answers ok posso andare abbiamo preso tutta l'ossidiana che ci serviva via ecco qua ragazzi abbiamo fatto il nostro portale con un'entrata favolosa grazie al nostro caro amico Drake grazie grazie sono unità intorno e entriamo armati di spada di ferro mi ci interessa ok ragazzi lagga parecchio non mi carica il mondo aiuto lagga e abbiamo trovato ecco abbiamo trovato il quarzo del sottomondo però prima non c'era il quarzo del sottomondo oh no ma perchè sta canzone è brutta dove sei? dove sei? dai su non ti trovo è anche buio cioè non si vede niente poi chi guarda il video ma ma chi guarda il video? e lo so ma chi guarda il video poi si vede brutto capito? pure se ci sta pure se io ci vedo ma loro no eh? non si vede? no si vede tutto brutto su dove sei? scusate ragazzi se non si vede tanto a voi cioè si vede tipo tutto nero lo so perchè anche io sto vedendo allo schermo di quello che vedete voi e qui mamma mia raga sta canzone è agitante dove sei? io non vedo niente mi cioè si vede tipo tutto nero chi vede il video ma dove sei? oh mi ma se non ti vedo da sto parlando sto parlando anch'io aah c'ho il tuo cuore c'è un pikman di merda che non colpisco santo non li sto picchiando è il gasto forse qualcosa ho preso di tuo ma te lo dirai lo sto colpendo vieni 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 oh finalmente l'ho colpito due volte ma adesso non ho frecce ma ti sta vedendo a te si ecco muori mini muori oh allora ho preso alcune cose tue vieni aah merda ti stavo dando le cose attenzione vieni 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 dobbiamo farci un posto appartato però ma perché ti guarda solo a te perché perché non sono in danger sa che non lo vuoi uccidere perché non aah vaffanica se da dove ce l'ho rimandato ce l'ho rimandato rimandato vabbè comunque chi ce le sta rimandato però l'importante è che ce le rimandiamo qua ci moriamo male eeeh oppure poi dammi il ticone dammi il ticone eeeh dov'è perché non ce l'ho il tuo come no no ma il gas è morto no il fatto è che non si vede comunque vieni qua vieni un attimo vicino a me dobbiamo fare la chiusura del video eh finiamo il video ok ragazzi io penso di chiudere qua il video ci vediamo nel prossimo eeeh ciao a tutti ragazzi mettete un bel mi piace commentate e ci vediamo nel prossimo video ciao